Buonasera, sì, io volevo fare qualche riflessione giuridica, questo mi è stato chiesto, iniziando proprio dalla ricostruzione degli atti che ho, ma ovviamente non sarò precisissimo perché gli atti che abbiamo non sono tutti e questo è già un primo problema, cioè di trasparenza di quanto sta avvenendo e di quanto non è avvenuto in questo lungo periodo che parte dal 6 dicembre del 2007 con i sette operai che sono arsi, vivi e a cui va ovviamente il mio pensiero alle loro famiglie prima di tutto e quindi da lì bisogna partire e da lì sono passati 16 anni con una risposta che non c'è stata di recupero di quell'area, di restituzione di un'area compromessa, di un'area non solo inquinata, ma di un'area appunto teatro di questo scempio che è accaduto. Ci sono due piani che però sono vicini, sono distinti ma giuridicamente sono vicini e in parte li ha già ricordati Mariangela, il primo è il piano dell'applicazione del codice dell'ambiente, il principio chi inquina paga che è un principio non solo nostro ovviamente, un principio del diritto dell'Unione Europea che è chiaramente enunciato nel nostro codice dell'ambiente. E il secondo è il tema dell'espropriazione per pubblica utilità di un'area di proprietà privata quando il proprietario privato non è in grado di gestire quell'area e quindi di esercitare i suoi poteri su quell'area diciamo dominicali nel rispetto della funzione sociale che deve essere come ricordavamo costituzionalmente garantita su tutte le aree anche quelle di proprietà privata. Mi veniva chiesto prima quando è che si può avviare una procedura di espropriazione per pubblica utilità, fermo restando che è vero e concordo pienamente che sembra un termine tabù specialmente nel contesto territoriale in cui parliamo, però pubblica utilità vuol dire pubblico interesse, cioè quando c'è un'area sostanzialmente dismessa, inquinante, inquinante e per la quale i proprietari non compiono le attività di bonifica, già solo questo è sufficiente a integrare due profili. Uno, nuoce gravemente la sanità pubblica, mi sembra che su questo gli studi scientifici che abbiamo a disposizione siano inequivocabili nell'integrare questo presupposto. Nuoce gravemente al decoro, vorrei vedere insomma, basta passare di lì e potrei andare avanti, ma non voglio essere troppo tecnico. C'è stato prima, mi spiace non aver potuto partecipare a settembre, già un primo incontro importante sulla bonifica, io però sulla base dei documenti che leggo da giurista, quindi da studioso di diritto amministrativo, un po' di domande me le sono fatte, perché parto dall'ultima determina dirigenziale del Comune di Torino, quella di quest'anno, gennaio, adesso poi sarò più preciso, ma insomma, con la quale si dà l'ennesima, si dà una proroga ai lavori di cosiddetta messa in sicurezza operativa del sito. Però i dati temporali sono inquietanti. Allora, conferenza di servizi 21 febbraio 2018, che conferenza di servizi, sappiamo insomma tra chi e chi e chi, analisi del rischio sanitario ambientale. Quindi nel 2018 c'è un'analisi del rischio, dal quale emerge questa preoccupante esposizione, inquinamento, cromo esavalente nelle falde, eccetera, eccetera. Il tavolo tecnico, quello che poi deve esaminare gli esiti dell'analisi del rischio sanitario ambientale, il tavolo tecnico del 22 giugno del 2021, quindi sono passati tre anni e quattro mesi da quando è stata confezionata l'analisi del rischio. Ripeto, analisi del rischio 2018, febbraio, tavolo tecnico che deve indicare come si deve bonificare a fronte di quel rischio, tre anni e quattro mesi dopo. Ma che cosa dice il tavolo tecnico? Il tavolo tecnico definisce le modalità, io l'ho segnato le parole perché sono importanti, le modalità di prosecuzione del progetto di bonifica, di prosecuzione del progetto di bonifica, quindi un progetto di bonifica già avviato sul quale bisogna concordare tecnicamente come portarlo a termine. No, almeno questo mi sembra di capire. La revisione del progetto di bonifica del 2018, quindi tre anni e mezzo dopo bisogna cambiare le condizioni per bonificare, però nel frattempo come dire, quel sito è sempre lì, è sempre inquinante, è sempre inquinato. Poi possiamo tornarci un attimo perché questo mi ha anche colpito. Nel luglio del 2021, entro luglio del 2021, secondo questo tavolo tecnico, bisognava mettere in sicurezza, con la procedura di messa in sicurezza, attenzione nuove le parole, d'emergenza, ripeto, 2007 l'incidente, 2018 l'analisi del rischio, 2021 le modalità di prosecuzione del progetto di bonifica, siamo a luglio del 2021 per intervenire con la messa di sicurezza in urgenza. A me la parola urgenza in questo caso dà leggermente fastidio. Urgenza, emergenza. Siamo al 13 dicembre del 2022 dove viene chiesta appunto dal proprietario attuale, Arvedi eccetera, dell'area, la proroga della messa in sicurezza operativa e arriviamo appunto alla risposta dell'amministrazione comunale. La determinazione dirigenziale del Dipartimento Ambiente del Comune del 13 gennaio di quest'anno proroga al 30 giugno, ultimo scorso, la messa in sicurezza operativa. Qui io non ho più dati successivi, quindi non so dal giugno adesso sia, ma che punto poi parlerà meglio di me dopo chi segue queste pratiche. Però di nuovo la motivazione, perché sul trascorrere del tempo, sulla emergenza, sulla urgenza, siamo arrivati al 30 giugno del 2023. Giusto? La contaminazione è di tipo storico la motivazione. Se la motivazione è di tipo storico non c'è rischio di aggravamento. Io non sono un esperto di queste tipologie di inquinamento, però ho qualche dubbio semplicemente applicando un principio di nuovo del diritto dell'Unione Europea, che è il principio di precauzione. Qualche dubbio ce l'avrei. Anche solo in ipotesi di dubbio un inquinamento tollerato per un periodo così lungo, anche se è di tipo storico, va a maggior ragione fronteggiato e va risolto. Il miso, aggiungo, scusate il miso è appunto il piano di messa e sicurezza operativa, dovrà essere, cito di nuovo testualmente, calibrato rispetto all'effettiva modalità di utilizzo dell'area. Perché segno tutte queste paroline messe insieme? Da amministrativista, cioè da uno che in ipotesi volesse fare un ricorso. Perché sulla base di una promessa di, diciamo, una destinazione di Acciai Speciali Terni S.p.a., cioè la società che è attualmente proprietaria, si sceglie di affidarsi a una bonifica futura. Il passaggio è che Acciai Speciali Terni dichiara di aver avviato un percorso di ridefinizione complessiva del piano di sviluppo aziendale, puntini puntini, comprendente la valutazione della possibilità di sviluppo e utilizzo dell'area in oggetto attualmente dismessa. Due parole, avviato, avviato, siamo nella richiesta di proroga ultima e sulla base di una possibilità di utilizzo dell'area. Quindi è tutto ipotetico. Giuridicamente questa cosa qua, per parlarci chiaro, non ha nessun valore. Quindi, area dismessa da 16 anni, profondamente inquinata, i dati parlano chiaro, 193 terzo coma del Codice dell'Ambiente, ordinanza del sindaco, fissa il termine per la bonifica, se no si procede in danno, in esecuzione in danno al proprietario, ma la norma, chiudo il ragionamento, questa norma che è una norma perentoria, cioè una norma scritta bene, non è che lascia dei dubbi interpretativi. Il sindaco dispone con ordinanza delle operazioni di bonifica e di ripristino statui luoghi è il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno e al recupero delle somme. La norma è chiara, no? Mi sembra abbastanza chiara. Ecco, la norma è violata se, uno, il miso, questo famigerato piano di messa in sicurezza, è rinviato con proroghe continue, perché il termine non è fissato, è un termine scorrevole, diciamo così. Due, è subordinato a un piano aziendale che è ipotetico, come abbiamo appena detto, e questo è una determina dirigenziale, non l'ho inventato io. Tre, non è definito in nessun modo l'utilizzo dell'area, cioè sta valutando la possibilità di sviluppo e l'utilizzo dell'area attualmente dismessa. Chiudendo, il comune, seguendo questa linea, che cosa fa? Subordina l'esercizio di un proprio dovere, perché questo è un dovere istituzionale, non è una facoltà, è un dovere, 193,3. Chi inquina paga? L'amministrazione deve rimediare. Codice ambiente, legge regionale del Piemonte 42 del 2000, legge regionale del Piemonte 9 del 2007, poi non la faccio lunga perché sarebbe una noia terribile, anche la legge regionale del 2015, la 3, che prevede le garanzie finanziarie sui piani di bonifica. Il privato deve garantire che, emettere i soldi per garantire che la bonifica è fattibile. L'iniziativa del privato proprietario sostanzialmente è il privato che decide cosa fare e il comune aspetta. Sono rimesse le scelte al privato sulla possibilità dell'area di sviluppo, conseguente calibratura dopo, secondo quello che decide il privato, si calibra il piano di messa in sicurezza operativa. Questa è la sintesi della ricostruzione della vicenda. Mentre c'è un onere reale su quel fondo, giuridicamente quella norma del cui inquina paga vuol dire che su quell'area lì c'è un onere reale, quello è un privilegio speciale che ha l'amministrazione immobiliare su quell'area, qualora non venga bonificata. Sono trascorsi 5 anni dal progetto di bonifica del 2018, l'emergenza viene ravvisata nel 2021 e nel 2023 siamo con un miso ipotetico. Questa è la ricostruzione dei fatti. Passo all'esproprio, poi arrivo a concludere, non voglio fare un trattato, però era per mettere i puntini su lei. L'altro fronte, l'esproprio per pubblica utilità. Testo unico degli esproprio, articolo 9, testo unico degli esproprio del 2001, l'articolo 9, vincoli derivanti da piani urbanistici. Quello che ricordava Mariangela la proposta di variante al PRG per assegnare all'area la destinazione esclusiva, servizi pubblici sanitari assistenziali, H, e parco pubblico urbano, V. Allora, quello è un atto che, ovviamente adeguatamente istruito e adeguatamente dimostrata la sua utilità pubblica, comporta automaticamente la dichiarazione di pubblica utilità. Vuol dire che, fatta quella variante, destinata a quell'area, a quella finalità, l'area è considerata di pubblica utilità e quindi sostanzialmente è consentito l'esproprio. Quali sono, qual è il contesto nel quale ci si muove? Allora, è ovvio che l'esproprio sostanzialmente ha dei costi perché c'è un indennizzo da pagare, ma qui c'è un onere di bonifica che grava sul privato, giusto? Il contorno è, lo dicevamo prima, evitare scelte alternative di destinazione delle aree che siano incompatibili con tutta una serie di altri piani del comune. Cito, ma sono citate bene nella stessa proposta di variante, il piano di resilienza climatica del comune di Torino che prevede espressamente l'azzeramento del consumo dei suoli dell'amministrazione comunale. Il piano strategico dell'infrastruttura verde, anche questo è un atto del comune. Il patto dei sindaci per il clima, siglato il 13 febbraio del 2023, quindi anche recente. C'è giurisprudenza amministrativa, anche del Consiglio di Stato, che dice che è vero che le scelte urbanistiche sono ampiamente discrezionali, quindi il comune sceglie come meglio ritiene per la cura della collettività amministrata, ma dice che devono essere tali da garantire una coerenza complessiva delle scelte che l'amministrazione comunale fa in base agli atti e ai piani di cui si è dotata. Piano di resilienza climatica, piano strategico dell'infrastruttura verde, patto dei sindaci per il clima. Ripeto, coerenza complessiva delle scelte effettuate dall'amministrazione comunale sull'utilizzo dei propri suoli. Consiglio di Stato, sezione quarta, 1459 del 2014. Tra l'altro era un caso proprio in quale l'amministrazione comunale difendeva la sua discrezionalità nell'assegnare una certa area, una certa destinazione, ma non teneva conto di tutta una serie di altri piani che si era data. E quindi qua è evidente che il discorso ci porta sulla pellerina, sulle scelte alternative, che io vado a di sboscare un parco, tra l'altro come dicevamo prima con una scelta anche piuttosto curiosa di contratti che chiamano in ballo l'Istituto Nazionale, l'INAIL, che dispone delle risorse utili. Poi non c'è nessuna aspettativa qualificata a che quell'area venga destinata e venga destinata secondo destinazioni precedenti. Le varianti precedenti, quelle del 2013-2014, quelle famigerate, sono state revocate dalla giunta a Pendino nel 2017. C'è un interesse qualificato a impugnare eventualmente una scelta urbanistica per la compromissione del diritto alla salute, diritto all'ambiente, peggioramento dei caratteri urbanistici che connotano l'area, eccetera eccetera. Quindi dal punto di vista giuridico, come dire, i presupposti ci sono tutti per immaginare un procedimento di espropriazione. Aggiungo, codice appalti di recente approvazione, è entrato in vigore a luglio di quest'anno, il codice appalti del decreto legislativo 36 del 2023, insieme ai criteri minimi ambientali, decreto ministeriale dell'anno scorso, 2022, che sono vincolanti per tutte le pubbliche amministrazioni, prevedono che ogni volta che si debba individuare la realizzazione di un'opera pubblica, la realizzazione di una nuova infrastruttura, la riqualificazione di zone del territorio, si debbano valutare tutte le alternative progettuali partendo da quelle che comportano una rigenerazione di aree dismesse e una rigenerazione e riqualificazione delle aree degradate. Codice degli appalti italiano, vincolante per tutte le amministrazioni, comprese quelle locali. Concludo. Quindi, è vero che la scelta urbanistica è discrezionale, perché dall'altra parte, come dire, il ragionamento potrebbe essere, ma noi scegliamo quello che pensiamo sia migliore per la collettività. Sì, però, uno, deve rispettare dei criteri localizzativi, e qua si apre tutto un altro fronte di come si scelgano le aree e quale sia la priorità di una piuttosto che l'altra. Due, la coerenza con le scelte complessive dell'amministrazione, l'abbiamo visto prima, con tutti i piani di contorno. Tre, il rispetto degli interessi pubblici primari, ambiente, consumo del suolo, prima di tutto, riqualificazione di aree degradate e dismesse. Tre, l'esproprio è per legge lo strumento utile a tale fine. E così io ho ricostruito la mia piccola parte giuridica. Sono ovviamente a disposizione se serve.